bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono willy jay ed oggi siamo qui con la terza parte del peyote splant ragazzi questa volta andremo a prendere un altro peyote e qua nel frattempo ci sono questa agenda nella location del peyote non so per quale motivo ragazzi festeggiano, c'hanno la musica ragazzi il peyote che appunto andremo a prendere sarà qua in questi dintorni ragazzi quindi orientatevi un po' con questo parcheggio che appunto penso che avrete capito comunque dove sia perché è a ovest della mappa quindi diciamo che qua vicino al porto ragazzi non è tanto difficile da raggiungere penso che tutti lo conosciamo questo luogo ragazzi una volta andati qua dobbiamo andare qua in mezzo alle foglie quindi iniziamo a cercare ragazzi a cercare l'anno perchè è un bordello ragazzi trovare il peyote c'è perchè non nascondono bene sti bastanti per te non lo vogliono fare prezzi è un po' difficile da prendere perché ci dobbiamo mettere con un'esplorazione estrema ragazzi quindi iniziamo a ricercare eccolo raga eccolo ninja finalmente l'ho trovato raga due ore e mezza di esplorazione sembrava alla ricerca di nemo ragazzi cioè non lo so vediamo un po' cosa ci trasformiamo non lo salviamo dai si non salviamo sennò poi non lo possiamo prendere più oh 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 un carlino ragazzi è un carlino guarda cazzo cazzo ok raga un carlino allora oh 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 laia la città poi è il tuo nome con il cerchio si attacca come al primo giorno vediamo un po' di attaccare tutta questa gente che sta qua ecco la 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 ahahah 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 non ti beve la birra qui ahahah ahahah raga questa è stata figa cioè e perchè 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 raga gli esce il sangue di là in mezzo cioè ragazzi che uscite il sangue di là in mezzo quindi significa che mentre è caduto ha preso un volto imparto di ciorla eh appunto uscito il sangue ahahah tutti morti ragazzi con un morto carlino veramente potente mi ricerco la cura cazzo è no 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 via ammazzolo via carlino via carlino via carlino che poi stai no mamma mia regali ci hanno sparato in testa con le con le con che cazzo fai ma con mamma mia regalo per l'energia vi rendete conto c'è ma è la vergogna totale ragazzi sparare in testa con un bugile ad un gallino cioè ragazzi la polizia non ha pietà poi mi ha pure investito a me ha detto cioè vi rendete conto c'è la polizia questa ora la segnala gli animalisti ragazzi con questa cosa della polizia la segnala gli animalisti non è educato cioè come ragazzi comunque abbiamo preso questo periodo siamo stati veramente pochissimi un gallino però è stato figo è stato veramente figo nel tempo voglio devastare la radio la devasto la voglio devastare e comunque ragazzi abbiamo devastato la radio pure e che dirvi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci rivediamo ad un prossimo video bella ragazzi